numero 4 la tecnologia hvlp alto volume bassa pressione garantisce uno spruzzo uniforme e regolare riducendo allo stesso tempo drasticamente la nebulizzazione e lo spreco di vernice si spruzza ordinatamente qualsiasi protezione di pittura vernice o lacca su muri porte recinzioni del giardino eccetera niente macchie sulle mani o sui vestiti niente fumi di vernice nell'aria questo spruzzatore di vernice hvlp ha un tubo dell'aria extra lungo di 3 metri potete quindi muovervi liberamente con lo spruzzatore senza alcun ostacolo inoltre è possibile riporre ordinatamente il tubo dell'aria e il cavo nel carrello in dotazione trovi il link di questo articolo in descrizione numero 3 ha anche un dissipatore di calore poroso che assicura la dissipazione del calore mantenendo il prodotto bello e pratico prolungando la vita del prodotto la pistola spruzzo è progettata con una combinazione di parti che la rende facile da smontare pulire e riparare in modo da non doversi preoccupare della manutenzione dell'attrezzatura grazie alla sua leggerezza lo spruzzatore di vernice è adatto all'uso con una sola mano permettendovi di lavorare più a lungo senza stancarvi la consegna include anche un misurino di viscosità e un ago per la pulizia dell'ugello in descrizione trovi il link di questo prodotto numero 2 lo spruzzatore è dotato di tre ugelli di diverse dimensioni per diversi lavori di verniciatura è possibile svitare il dado della tazza e regolare la tazza d'aria in tre posizioni per tre diversi modelli di spruzzo rotondo verticale e orizzontale la pistola spruzzo utilizza la tecnologia hvlp che permette ad una maggiore proporzione di vernice di raggiungere la superficie di destinazione e riduce la necessità di rispruzzatura il consumo di materiale e la contaminazione della vernice inoltre ha una dissipazione del calore porosa che assicura la dissipazione del calore mantenendo il prodotto bello e pratico aumentando così la vita del prodotto se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto clicca il link in descrizione numero 1 l'ugello wagner wall extra texture è adatto a lavorare con vernice a struttura fine questo accessorio è adatto a tutte le irroratrici wagner a bassa pressione hvpl l'accessorio è adatto all'applicazione di vernice a trama fine per effetti speciali sulle pareti tecnologia click and paint un sistema semplice per riempire la tazza rapidamente e facilmente questo rende anche facili i cambi di vernice e assicura una pulizia rapida smontabile e facile da pulire parti in teflon trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video per aver guardato il video